saldi avarese l'andamento è altalenante bene la partenza di giovedì confronto lo scorso anno quando i saldi sono stati un flop quest'anno la partenza è stata normale il giorno dell'epifemia però non è andato benissimo il sabato è stato discreto domenica invece poca gente anche a causa del clima umido e piovoso ma non freddo cosa che invita a posticipare l'acquisto di lana e cappotti il percentuale di sconto si attesta intorno al 30 40 per cento e si pensa che ci siano molte persone in attesa dei prezzi scontati al 50 per cento tanti cambi dei regali di natale meglio gli articoli di fascia medio alta rispetto ai prodotti di fascia medio bassa un primo bilancio però si potrà fare solo trascorsi altre 10 giorni i saldi andranno avanti fino al 5 marzo quindi c'è ancora tempo per andare a caccia di affari